Si sono giocate le gare di Coppa Italia d'eccellenza e promozione. Il Cervinara dopo la doppia sconfitta, maturata contro l'Apice, la Virtus Savrino-Santo Stefano, era già fuori dai giochi prima dell'ultima giornata. Il colpo dei Virtussini di Roberto Filarmonico, in casa dei Sannetti di Facchino per 3-2, ha regalato il pasta al turno successivo ai Bianco Nero Verdi. 3-2 il finale per gli Irpini, che sono andati a segno con Panico, Nicodemo e il solito Cozzolino. Non basta gli azzurri, la doppietta di Barbosa. Apice comunque al turno successivo come una delle migliori seconde. Adesso è per la Virtus Avellino-Santo Stefano l'esame a Real Forio. Non basta invece al solufra di Rapolo, la doppietta di Pellegrino e Conciari superano due a Zerbizalerno un balonissi e non riescono a ribaltare il fattore dei gol fatti e subiti. Giallo Ble fuori. Il Cervinara, dopo la doppia sconfitta in Coppa, riparte da mister Salvio Casali in panchina, che sarà codiovato da Angelo Cioffi, che ricoprirà il ruolo di secondo allenatore e preparatore atletico. Mentre la grande novità è il ritorno nella sua Cervinara di Pasquale Casale, che ricoprirà il ruolo di consulente sportivo. In duratare d'arrivo per il calcio a mercato, il calciatore Expo Miano Rispoli e il portiere Grottese Bruno. In promozione ai match di andata hanno visto il clotenuto del Baiano soccombere in casa, contro il San Vitaliano per 5-1 e contro il Montesarchio per 1-0. Il Lions Monzo, in ultimo Montemiletto, sbanca il durante di San Vignano con un tris. Pugliese è subito decisivo con una doppietta, poi in rete anche Detter. Il club di Franco Fabricatore annuncia anche l'ingaggio di Cristian Capone, difensore 46enne, che ha scritto pagine di storie importanti in tutta la campagna in Irpinia. Ha giocato infatti con le maglie di Albanova, Cerrana, Frattese, per poi tornare in Irpinia e fare la storia a Venticano. L'Era Clea batte 2-0 in Lions Grotta, decisivo l'ex Catania Falconieri, autore di una doppietta.